buongiorno a tutti e benvenuti in questo appuntamento sull'intelligenza artificiale sono alessio pergnola e sono un educatore di code motion kids e questa sera per pochi minuti parleremo di intelligenza artificiale quindi qualcosa davvero stimolante parleremo di intelligenza artificiale proveremo a fare anche degli esempi concreti faremo qualche piccola sperimentazione durante la serata e niente quindi proveremo un po divertirci attorno a questo tema che questo è un appuntamento curato da code motion kids e quindi inserito nel grande palinsesto di code motion all'interno di questa maker fair 20 20 allora benissimo siamo pronti partiamo in questo strano mondo dell'intelligenza artificiale ripetisco faremo degli sperimentini questa sera quindi fate molta attenzione perché potreste rimanere eccessivamente sorpresi allora partiamo parliamo di intelligenza artificiale e quindi intelligenza 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 artificiale scusate ma qualcuno di voi sa che cos'è l'intelligenza artificiale prima sfida in chat vediamo così a bruciapero ditemi un po secondo voi che cos'è l'intelligenza artificiale però non perdetevi in lunghe grandi risposte facciamo così scrivetemi la prima parolina che vi viene in mente se io vi dicessi intelligenza artificiale vediamo la prima cosa che vi viene in mente non pensateci troppo allora c'è chi ci scrive neurone caspita andiamo subito su risposte importanti addirittura reti neurali abbiamo siete troppo avanti qualcuno risponde computer interessante qualcuno risponde web di gente artificiale web chissà probabilmente sono connesse tecnologia informatica al servizio di tutti caspita che bella risposta e poi molto pertinente avevo detto un'unica risposta sto scherzando giulia grazie della tua risposta insomma beh intelligenza artificiale beh forse si è un po tutta sta roba avete dato già tanti spunti interessantissimi se volete continuate a scrivere in chat ad esempio francesco ci dice intelligenza trasmessa molto molto interessante parleremo un po di tutto questo quest'oggi faremo davvero non una carrellata storica ma una proprio brevissima introduzione per poi provare a sperimentare qualche qualche prodotto di intelligenza artificiale o addirittura allenare qualche intelligenza artificiale ovviamente mi sembra doveroso mi sembra doveroso fare un piccolo passaggio su un punto che secondo me è cruciale e vorrei tanto sapere anche qui in questo caso il vostro parere immaginiamo una bella sfida una bella sfida che sin dalla notte dei tempi gli esseri umani immaginano e cioè secondo voi in un duello tra intelligenza artificiale e intelligenza umana chi vincerebbe vediamo vorrei proprio sapere il vostro pronostico immaginate di dare una una valutazione così non vi costa nulla secondo voi chi vincerebbe in una lotta tra intelligenza umana e intelligenza artificiale vediamo devo riconoscere che dentro i risultati della certa siete gente un po' di parte perché diciamo che l'umana sta vincendo a mani basse c'è un'altissima percentuale c'è anche chi dice ovvio sull'intelligenza umana qualcuno dice per ora umana quindi lascia uno spiraglio alla possibile possibile riscatto diciamo che si dell'intelligenza artificiale c'è chi ipotizza un pareggio come edoardo c'è chi dice dipende nel senso che nel film l'intelligenza artificiale altrimenti fosse nella realtà intelligenza umana è un tal maestro a questi sui nickname ci dice l'intelligenza artificiale non è determinata dall'emozione ok sull'umana francesco ci lascia anche questo spunto dipende da quanto ha imparato l'intelligenza umana magari si è imparato ancora poco forse ce la fa vince l'intelligenza artificiale enzo ci dice dipende dalle operazioni maurizio ci dice che vince l'intelligenza artificiale grazie grazie mille davvero della vostra quantità di risposte grazie davvero una piccola nota tecnica se qualcuno sta scrivendo nella sezione question and answer domande risposte potrò visionare con le domande solo quando uscirò un attimo dalla condivisione quindi se volete invece un'interazione immediata provate a scrivere in chat quindi beh è una partita bella aperta eh anche se mi vien da dire se avessimo posto questa domanda anche solo non dico tanto ma una quarantina d'anni fa una cinquantina anni fa io credo che la risposta probabilmente sarebbe stata diciamo senza una una partita che non merita neanche di essere giocata perché l'intelligenza umana avrebbe vinto a mani basse ora non voglio dilungarmi troppo sulle intelligenze però mi sembra doveroso chiarire alcuni aspetti eh bella Fabio scusate ma Fabio mi ha risposto con la sua risposta perché mi ha detto artificiale a supporto di quella umana potrebbe essere la sintesi di tutto vabbè Fabio vediamo se alla fine del del nostro seminario del nostro workshop potrò giocarmi questa tua risposta dicevo non possiamo non innanzitutto direi ammirare la complessità delle intelligenze e ovviamente le intelligenze soprattutto quelle umane partiamo da un grande presupposto innanzitutto non ci abbiamo ancora capito proprio tutto 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 il tema è estremamente complesso e soprattutto negli ultimi anni gli studi in questo settore si stanno moltiplicando e sempre più si si cerca di conoscere di scrutare quali siano i processi a livello cognitivo a livello neuronale come qualcuno scriveva prima che animano il nostro cervello di sicuro siamo finalmente direi finalmente arrivati alla grande consapevolezza che esistono tanti tipi di intelligenze un tempo forse appunto qualche decennio fa eravamo abituati a leggere l'intelligenza e interpretarla solo come o l'intelligenza logico matematica o l'intelligenza linguistica invece finalmente abbiamo appreso quanto le intelligenze possano essere molto sfaccettate molto variegate e perché è importante questa consapevolezza perché ci fa capire quanto ogni individuo ogni essere umano può essere un campione in alcune specifiche intelligenze qui ne sono presentate solo alcune questa è un'immagine che ho cercato in rete ma non sono neanche solo queste basti pensare a tutto il lavoro ad esempio di goleman sull'intelligenza emotiva quindi davvero quando parliamo di intelligenza apriamo un velo un grande sguardo su questo ampissimo mondo che è la nostra mente questo questo splendido organo che conserviamo in questo splendido contenitore in questo case super efficiente che davvero ci permette di relazionarci con il resto del mondo che abbiamo intorno a noi beh capite bene che rielaborare qualcosa come questa questa robetta che abbiamo in questa scatola non sia cosa facile però sebbene non è cosa facile è una sfida che tutti hanno voluto un po' cogliere sin dall'antichità e allora visto che qui di sfide piccole sfidette ne stiamo ne stiamo facendo tante ehm vi sfido ancora va chi sono sti due tizi voglio sapere chi sono sti due tizi vediamo eh se ne riconoscete anche solo uno potete anche indicarmi solo uno dei due eh rispondete sempre in chat decidete se rispondere a tutti o solo a me non fate timidi ma questi due chi sono secondo voi eh stiamo parlando di intelligenze intelligenze artificiali qualcosa ci avranno a che fare eh iniziano ad arrivare delle risposte in chat grazie mille qualcuno ci dice Archimede no non è Archimede qualcuno attenzione iniziano ad arrivare tante risposte che ci parlano di un certo tizio il cui nome inizia con la lettera t la t la t di touring allora tantissimi ci hanno detto che quella a destra è touring perfetto diciamo che anche dall'abbigliamento capite bene che siamo nel secolo scorso quindi non tantissimo tempo fa eh qualcuno ci indica che il tizio a sinistra che è sempre un po' più vecchiotto diciamo così o se non è vecchiotto viene male in foto ecco diciamo così e Newton grazie Francesco ottima performance infatti la tua risposta a grandi applausi per te è sbagliata non è Newton era un applausi di incoraggiamento comunque grazie Francesco della tua disponibilità e non è Newton ma se parliamo di di pensiero di di mente di logica la logica a a la logica a a a a a la logica a a a a a a a ri a ri a ri a ri a ri aristotelica grandi avete risposto in chat anche a questa ma le sapete tutte insomma perché parliamo partiamo da aristotele fino ad arrivare a touring perché in realtà dal momento stesso in cui l'uomo ha iniziato a rendersi conto di quanto fosse potente questo strumento che arriva nella propria scatola cranica da subito si è cimentato nel provare a replicare quelle potenzialità e da subiti da subito ci si è posti una domanda e Aristotele forse il padre della logica è stato il primo a chiedersi visto che io riesco a leggere questi meccanismi logici che mi permettono di elaborare il pensiero per lo meno in maniera appunto secondo la logica aristotelica ma secondo voi è possibile meccanizzare il pensiero poi questa è stata la prima sfida che possiamo dire essere come dire la forma embrionale di intelligenza artificiale sarà possibile processare meccanizzare il pensiero in modo tale da renderlo come dire riproducibile perché capite bene che se iniziamo a capire che i pensieri avvengono secondo uno schema molto rigido prestabilito probabilmente molto molto complesso però una volta che abbiamo capito qual è lo schema di esecuzione come uno splendido spartito poi magari sarà difficile riprodurre con la musica ma probabilmente si potrà suonare questa è la sfida un po di aristotele francesco ad esempio ci scrive in chat no è inutile che perdiamo tempo no non si può fare non è possibile meccanizzare il pensiero questa che più una visione logica poi nel tempo si è via via evoluta e ci sono stati tantissimi pensatori del passato e anche più moderni in epoca moderna che ci hanno lavorato ecco e hanno iniziato ad avere dei piccoli risultati perché meccanizzare il pensiero significa anche creare dei piccoli calcolatori delle macchine che sono in grado di fare delle cose che prima faceva solo la nostra mente banalmente possiamo dire che è anche la prima pascalina se l'avrete mai conosciuta quel piccolo calcolatore anche quali se vogliamo è un primo esempio di una sorta di intelligenza artificiale abbiamo automatizzato delle operazioni che di solito fa la nostra mente e otteniamo un risultato piccoli esempi l'altro tizio sulla destra è proprio lui il tizio dal nome Alan Turing che è diciamo è una una personalità talmente grande che meriterebbe 23.000 maker fare nel senso che bisognerebbe parlarne per ore 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 però è un po citato descritto rappresentato inteso nel grande pantheon dei dei pensatori di tutti i tempi come il padre dell'intelligenza artificiale cioè colui che diciamo così per primo ha visto ha intravisto una prospettiva di grande sviluppo dietro questo tema e a lui si deve anche il nome del test di Turing non so se qualcuno lo conosce o se qualcuno sa come funziona ma sostanzialmente il test di Turing permette di rendersi conto di comprendere quanto e se un'intelligenza artificiale sia tra virgolette degna di questo nome cioè sia riuscita a raggiungere il proprio scopo ed è un test che procede semplicemente per imitazione cioè se guardando il comportamento di una macchina io non riesco a distinguere se si tratti di macchina o di essere umano allora vuol dire che missione compiuta test superato ora non so se voi conoscete delle diciamo così macchine uso macchine con un termine con una accezione molto molto larga eh non so se conoscete delle macchine che siano in grado di imitare talmente bene i comportamenti umani da rendere irriconoscibile la differenza non so se avete degli esempi eh considerate che noi siamo dei tizi che hanno dispositivi sono circondati a questi dispositivi che davvero sono molto più spinti rispetto a qualche decennio fa sull'intelligenza artificiale basti pensare a tutti i dispositivi che ci permettono di dialogare con appunto con un con un dispositivo mobile piuttosto che si basano sul riconoscimento vocale sul riconoscimento facciale basti pensare tutti diciamo i call center virtuali dove chiamiamo eh non c'è più la voce di un essere umano ma c'è una voce artificiale che ci risponde e a volte davvero si fa fatica eh a comprendere se siamo se stiamo interloquendo con una macchina piuttosto che con un essere umano Francesco ad esempio ci dice mettersi dei macchiniani sugli arti per comandare un robot cioè un comando a distanza con il quale leghiamo il nostro movimento a quello di una macchina sono tanti esempi molti sostengono che in realtà nessuno ce l'ha ancora fatta a superare il test di Turing cioè riuscire davvero a progettare un dispositivo che sia irriconoscibile rispetto all'uomo cioè rispetto ai suoi comportamenti siano indistinguibili da quelli che potrebbe avere un essere umano in realtà ci interessa poco però ci interessa lo sviluppo che ha avuto questa questa idea e per capire questo qui ho bisogno di tutta la vostra collaborazione e tutta la vostra fiducia nei miei confronti fidatevi di me per cinque minuti e aiutatemi perché per capire la differenza sostanziale tra questi due terminini intelligenza simbolica intelligenza sub simbolica utilizzerò un palloncino attenzione io adesso per pochissimi minuti mi trasformerò in una macchina in un automa ok spero che nessuno di voi possa riconoscere i miei comportamenti ok non so se supereroe test di Turing ma partiamo dall'essere una macchina tremendamente stupida e quindi su questo io vado tranquillissimo sarò un ottimo attore allora da macchina completamente stupida vi chiedo di diventare i miei programmatori e cioè ditemi cosa devo fare per gonfiare un palloncino aspetto inciotto le vostre risposte dai scrivetemi ditemi cosa devo fare datemi le istruzioni sono la macchina forza istruitemi dai sviluppate un'intelligenza artificiale visto che non ho ricevuta in dote una grande intelligenza allora vediamo le vostre risposte in chat come posso confiare il palloncino datemi delle istruzioni vi prego datemele allora vediamo ecco arrivano le prime risposte grazie mille carissimi allora per prima cosa devi mettere il palloncino in bocca grande vado procedo hai detto tu è così no no scusate ragazzi ma che istruzioni mi da vabbè scusate attenzione c'è francesco per fortuna ci puoi soffiare dentro grazie francesco francesco non funziona non funziona faccio ma che indicazioni mi dai c'è marco fermi tutti c'è marco avvicinare il palloncino alle labbra grazie marco così funziona non funziona prova a mettere insieme le istruzioni di marco e francesco cioè mettere vicino e soffiare non funziona ancora perché non funziona per fortuna che c'è barbara una donna ci saprà dare la risposta giusta mettere il palloncino alla bocca e soffiare grazie barbara ci voleva barbara anche spostarlo ma non funziona ora ha detto mettere il palloncino alla bocca e soffiare io ho riprodotto esattamente questo attenzione c'è giulia fermi tutti avvicinare il palloncino alla bocca inserirlo in bocca dalla parte allungata soffiare rento bloccarsi quando il palloncino è gonfiato grande cioè vedete che istruzioni precise giulia così si fa insegna a questi gente incompetente veramente allora dalla parte allungata presumo sia questa la parte allungata inserire la bocca e soffiare dentro un'azione fabio ci dice serve un algoritmo passo passo che si possa specificare le azioni ma si ma non me lo state dando questo algoritmo per ricinare le labbra sul buco le labbra sul buco quindi quindi e poi soffiare inserisce il palloncino dalla parte dell'imboccatore alla bocca esercitare una pressione con labbra e denti soffiare all'interno tenendo anche con le dita grande Enzo non ha funzionato eh o meglio c'eravamo vicino eh infatti Francesco l'aveva scritto tenerlo in mano mentre si gonfia vabbè ragazzi secondo voi questa è intelligenza simbolica o sub simbolica o meglio mi spiego meglio cosa avete provato a fare avete provato a darmi delle istruzioni innanzitutto avete capito quanto è difficile programmare una macchina stupida ok e cioè bisogna dare come qualcuno scriveva un algoritmo molto preciso cioè non si può lasciare spazio per l'interpretazione eh soffiarci dentro eh vabbè soffiarci dentro per uno che ha capito che cosa è come ha fatto un palloncino quali sono le sue parti le sue componenti dove intervenire e così via ma non è così facile e quindi avete dato una serie di istruzioni poi molto precise siete andati sempre lì più a dettagliare più precise come se avete affinato un codice un programma sempre meglio sempre meglio sempre meglio e alla fine bene o male ce l'ho fatto aggonfiato certo non siamo arrivati in fondo non ho fatto il nodo non l'ho chiuso però più o meno ce l'abbiamo fatta beh questo è un ottimo esempio di intelligenza simbolica e cioè trattare la macchina come una cosa stupida 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 che più stupida non si può e dagli tante istruzioni tante istruzioni tante istruzioni finché la macchina semplicemente seguendo alla lettera quelle istruzioni possa eseguirle e realizzare il nostro obiettivo questo è un po' l'intelligenza simbolica tra virgolette figlia di quell'idea aristotelica di logica cioè ci sono dei processi da seguire si seguono punto e basta si fanno e si arriva al risultato è un'intelligenza beh se pensiamo un'intelligenza come qualcosa che ci permetta di fare meglio delle azioni sì possiamo dire che lo è e possiamo dire che tutta l'intelligenza simbolica si basa su questo non so se avete sentito macchine che hanno vinto a scacchi contro esseri umani sono anche contro i più grandi campioni beh tutte queste macchine si basavano su algoritmi dove ci sono state date delle istruzioni talmente precise e molto complesse che hanno portato ad aggiungere un risultato un'altra intelligenza è quella sub simbolica e cioè immagino che molti di voi si sono chiesti vabbè ma dai lo sai come si gonfiare un palloncino oppure la risposta più facile sarebbe stata fermati ti faccio vedere io come si gonfiare un palloncino e magari qualcuno di voi avrebbe potuto gonfiare un palloncino e io guardandovi avrei potuto imitare ecco questa è l'intelligenza sub simbolica che è molto più simile all'intelligenza umana perché se ci pensate i bambini imparano a gonfiare un palloncino non seguendo delle istruzioni rigide ma vedendo più e più volte gente che soffia i palloncini poi ci provano che ci sono delle correzioni si allenano e così via beh la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale è proprio questa ovviamente capite bene che la prima si basa sull'avere tanti istruzioni 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 ed eseguire la seconda si basa su avere tante informazioni informazioni dati 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 dai quali apprendere copiare imitare e poi comportarsi di conseguenza bene noi parleremo questo oggi soprattutto di questa nuova parte dell'intelligenza artificiale che quella forse più interessante che appunto cerca di imitare dei comportamenti e per farlo studia e per studiare ha bisogno di tanti 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 dati ma proprio tanti e allora mettiamoci al lavoro vi faccio vedere un primo esempio di intelligenza artificiale ovviamente devo spostarmi online per farlo vedere meglio quindi interrompo un attimo la condivisione dello schermo eccomi qua in tutta la mia bruttezza e vi mostro questo strumento si chiama quick draw è uno strumento gratuito che trovate con qualsiasi motore di ricerca andando online e ci permette di allenare un'intelligenza artificiale vediamo come funziona allora mi sposto velocissimamente online eccoci qua questa non lo dovete dire adesso ecco qua ed eccoci su quick draw punto with google punto com spero ci arrivate da qualsiasi motore di ricerca allora qui ci dice una rete neurale può imparare a riconoscere i disegni sì avete proprio capito bene perché l'intelligenza artificiale subsimbolica si basa su un processo imitativo del funzionamento della nostra rete neurale cioè attivare dei neuroni in questo caso non sono proprio dei neuroni però diciamo diciamo che sono simili ecco anche se non sono dei veri neuroni che possano apprendere da quello che vedono ecco cosa facciamo proviamo a fare semplicemente quello che ci dice lui io userò per disegnare il mio trackpad e vediamo cosa ci dice disegna un boccale in meno di 20 secondi dal momento in cui io spingerò l'ok avrò 20 secondi per disegnare un boccale e lui proverà a capire se si tratta di un boccale vediamo il suo funzionamento vado allora io un boccale lo fare così lui dice che è una canoa no non è una canoa non è un disco da hockey non è neanche questa cosa ci provo provo a perfezionare il mio disegno vede un secchio un boccale forse c'è un beccuccio non lo so vediamo una tazza non è una tazza un frigorifero ma non è un frigorifero niente non sono stato capace vedo un procione ora un procione qui dovreste aiutando perché non so come è fatto un procione però proviamoci c'è una specie di porcellino non lo so non so come il procione facciamo così facciamo un nasino che subito simpatico vediamo facciamo una una testolina vediamo se riusciamo maiale ci siamo avvicinati però non so come è fatto il procione niente non ce l'ho fatta neanche in questo caso però prima di andare avanti perché adesso devo disegnare delle patatine fritte prima di andare avanti questo questo esercizio che ho fatto non è stato vano perché lui adesso in questo software è in grado di collegare alla forma procione un tentativo fallito ma comunque un altro tentativo per descriverlo e quindi è come se gli avessi dato un'altra informazione sulla quale si può allenare vediamo patatine fritte io le farei parità di tutta la vaschetta che le contiene vediamo così non è l'oceano ora gli faccio le patatine non temete eccole qua vediamo se le riconosce vediamo se le riconosce ma non è la marca vela ovviamente sappiate che io sono pessimo nel disegno è niente non ce l'ho fatto non riesce a indovinare però vabbè questo è un mio problema perché sono talmente scarso nel disegno però anche lui vuol dire che non è una macchina perfetta e si sta però continuando ad allenare presa di corrente allora ora io faccio prima la la spina vediamo se se la riconosce vi faccio anche il filo e magari ora qui ci fatto la vera e propria presa forse il mio problema è che niente non ce la faccio ragazzi non è mai successo che non riesce a indovinare niente di quello che produco però andiamo sulla torta dai la torta non la possiamo sbagliare facciamo la torta vediamo un ecco qua la torta è facile se non riconosce la torta davvero lo picchio vediamo vediamo grande ce l'ha fatta riconosciuto la torta vediamo il martello del manche il martello sarà facile dai su ho capito che gli devo dare subito delle istruzioni che li possa riconoscere in modo tale da essere quanto più facile possibile la comprensione vediamo vediamo se lo riconosce ma non è un chiodo ma dai ma come fai a dire che è un chiodo ma no e vabbè ragazzi allora guardiamo l'esito innanzitutto è sempre una cosa incoraggiante perché ti dice subito bei disegni e vi dico subito che qualsiasi cosa fate vi dice sempre di disegni ed è che questo non fa male e cosa vediamo vediamo i nostri prodotti grafici ovviamente io disegnato col trackpad quindi è molto complesso comunque è le sue interpretazioni come vedete ci ho preso solo una volta facendo una torta l'ha capita negli altri casi non non siamo riusciti a lei non è riuscita a comprendere il mio disegno ma questo per lui per la per la macchina che ha elaborato queste informazioni qualcuno ha detto questo è un processo di machine learning ottima performance si è continuata ad allenare perché ora sa che c'è un tizio che quando gli dici patatine fritte disegna un oggetto del genere e quindi è un altro dato che lui può elaborare e mettendolo insieme a tutti gli altri in futuro potrebbe capire che quando vede qualcosa di simile potrebbe essere anche quello patatine fritte è proprio un processo molto simile all'apprendimento di un bambino quando vedrà questo inizierà a capire che forse si tratta di una presa di corrente e qui come vedete vi potete allenare e magari allenandovi aiutate questa macchina a vedete qui è stato veloci solo che il triangolo è facile della tigre come si fa la tigre però chissà proviamoci quindi stiamo creando una macchina che riesce a riconoscere degli animali ad esempio piuttosto che degli oggetti e così via vabbè se quella la riconosce una tigre vabbè un'ambulanza chissà come sarà però come vedete sto aiutando questa macchina questa macchina a riconoscere determinati oggetti secondo un un processo di conoscenza che lui ha sviluppato grazie sta prendendo tutti i ragazzi qui grande performance alla fine diventerò un vero artista qui è un fagiolino magari ce lo mettiamo dentro no è un vediamo se lo riconosce il papione il papione sarà facile vediamo se lo riconosce subito ovviamente su questo potete allenarvi e soprattutto più che allenarvi voi allenare la macchina ecco qua dai questo si capisce che un papione ma che megafono ma dai sulle cose più semplici non andiamo d'accordo va bene ragazzi niente questo va bene e vediamo l'ultima dovrebbe essere l'ultima perché fa fare credo sei disegni per volta credo di essere arrivato all'ultimo ovviamente quando si inizia a disegnare ti prende la mano e quindi non riesce più a smettere come una droga ragazzi però si vede che un recinto grande allora vedete ora è andata molto meglio ma non perché io sia stato più bravo semplicemente perché il come dire io non ho disegni forse più facili per me o forse il suo allenamento era stato più alto su quei disegni o ancora forse l'idea che la macchina tra virgolette si è creata su quegli oggetti è più vicina all'idea che io ho in mente ora questa cosa lascia spazio un sacco di approfondimenti perché ci permette anche di capire quanto sia complesso costruire un'idea mentale e anche quanto questo può impattare nei processi comunicativi perché a volte noi pensiamo delle cose con la nostra testa e le comunichiamo e pretendiamo che il resto del mondo le comprenda per quello che per quello che abbiamo detto in realtà ogni testa elabora un'informazione secondo i processi tutti suoi insomma e quindi magari la stessa cosa viene elaborata in maniera differente questo quindi è un esempio di machine learning qualcuno l'ha chiamato proprio col termine giusto e abbiamo visto come una intelligenza artificiale va all'opera ma vediamo anche con quest'altro strumento teachable machine come un'intelligenza artificiale può essere tra virgolette preparata ok ci spostiamo ancora una volta in questo spazio che è teachable machine ecco qua sono tutti strumenti gratuiti accessibili online e io vi devo confessare che per agevolare la fruibilità di questo momento ho già preparato l'interazione cioè questa è una macchina che prova di imparare da quello che io gli mostro e cioè si può scegliere se insegnare alla macchina riconoscere delle posizioni delle pose piuttosto che riconoscere delle immagini degli oggetti oppure riconoscere dei suoni perfetto con questa macchina io la posso educare cioè ad esempio come vi faccio a riconoscere una posizione io guardate qui ho già fatto il lavoro però utilizzando la mia webcam io ho mostrato più e più volte la posizione che secondo me indica questa frase che io ho messo in in alto cioè ho detto quando faccio posso quando chiedo posso fare una domanda il gesto da associare quello di alzare una mano e quindi mi sono ripreso mentre alzavo la mano più e più volte e quindi questo ha permesso di dargli delle informazioni dei dati che lui ha appreso e ha immagazzinato sul sono disperato mi sono ripreso più volte mentre facevo cose del genere e lui ha preso informazione dubbio mi sono messo in questa posizione ho fatto un allenamento vedete qui c'è training ho proprio allenato il dispositivo e ora vediamo se funziona accendo la webcam sperando che non esploda nulla e guardate lui inizia a indicarmi la sua percezione delle mie posizioni vedete sembra un po impazzito perché non ho una posizione in particolare però guardate adesso provo ad alzare la mano vedete cento per cento posso fare una domanda ha riconosciuto la mia posizione abbasso la mano ritorno ad impazzire prova a fare sono disperato vedete ancora un po in difficoltà però quando vede le mani più o meno sulla mia testa e si apro la bocca ancora meglio ecco sono disperato mi riconosce perfetto ovviamente il fatto di alzare la mano per posizionarla sulla testa lo manda un po in confusione perché all'inizio lui riconosce l'alzata di mano e poi riconosce la mano sulla testa quindi dovrei allenarlo ancora vediamo la mia dubbiosità ecco qui ha riconosciuto il dubbio cento per cento dubbio però guardate cosa succede mi metto dall'altra parte non lo riconosce più secondo voi perché adesso non lo riconosce più cosa sarà mi successo è diventato cretino di colpo ecco qua ed ecco qua cambia completamente beh la risposta è molto molto semplice semplicemente quando l'ho istruito io praticamente ho fatto una cosa molto molto semplice sapete cosa l'ho istruito sempre in questa posizione mettendomi inclinandomi verso questo lato dello schermo non mi sono mai posizionato in questa posizione quindi lui non può sapere che anche questo gesto dall'altra parte significa la stessa identica cosa questo ci dice davvero tanto 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 anche sull'educazione in genere a volte ci chiediamo perché le giovani generazioni i ragazzi bambini hanno determinati comportamenti beh il modello è molto simile se hanno visto sempre ed esclusivamente solo un comportamento e non male che poi loro decodificano quell'aspetto solamente non conoscono che ci possono essere delle vie differenti vediamo anche sulle sugli oggetti anche qui ho fatto la stessa cosa io ho mostrato una clessidra e guardate io ho mostrato solo ed esclusivamente questa clessidra ecco qua io sono un appassionato di clessidra quindi ho tante però io gli ho mostrato solo questa poi ho mostrato una pallina questa pallina azzurra questa intorno con la t-shirt e poi ho mostrato un oggetto che ormai tutti abbiamo eccola qua la famigerata maschilina e quindi per evitare poi anche il l'indecisione quando non mostro nulla ho anche mostrato nulla cioè solo il mio volto vediamo anche qui ho fatto un training non lo faccio live perché il training porta via qualche minuto non tantissimo però comunque qualche minuto e allora testiamo la macchina vedete adesso la macchina vede solo me ed è abbastanza indecisa tra il niente e le altre le altre opzioni perché perché comunque il mio corpo lei lo vedeva già nelle altre opzioni ok però adesso proviamo inserire degli oggetti vediamo se funziona ecco qua clessidra guardate quanto è preciso sulla clessidra la riconosce subito al primo colpo perfetto proviamo con la pallina eccola qua eccola subito riconosciuta beccata in un attimo da un lato e dall'altro quindi vuol dire che la riconosce proprio bene e mascherina ecco qua tic tic tac beccata anche lei in un colpo solo ovviamente le intelligenze di questo tipo non sono attenzione infallibili che guardate poi io potrei credere che qualsiasi tipo di mascherina adesso la riconosco la prendo un'altra mascherina e la riconosce ancora perché l'ho messa sul volto ma se non la metto qui la mascherina inizia ad andare un po il tilt inizia a non capire se proprio lì però vedete ci prende ci prende un bel po quindi forse è davvero l'ho allenata davvero bene forse è davvero brava però proviamo ancora ad esempio pallina di colore diverso un po più grande gialla vedete c'è un po di difficoltà perché gialla così come era la polvere nella clessidra però dai ci prende è andata bene perfetto oppure un altro tipo di clessidra clessidra d'acqua guardate un po questo per fare degli stranissimi esperimenti però l'ha colta o l'ha riconosciuta perfetto clessidra d'acqua presa anche ragazzi è bravissima sta macchina allora clessidra polvere di ferro vediamo la riconosciuta è troppo brava davvero bravissima questa macchina e quindi una palla diversa ecco palla ecco ecco come mascherina ma perché mi dici che mascherina non è una mascherina è una pallina guardate sembra andare davvero in confusione un po coglie che una pallina però ad esempio se la metto davanti alla bocca eh no è mascherina al cento per cento perché lui ha elaborato l'informazione davanti alla bocca mascherina e quindi vedete inizia ad andare un po in confusione se metto una pallina che va sul bianco è ancora più convinto che sia una mascherina ma non lo è ovviamente quindi capite bene che questi queste macchine vanno istruite e vanno istruite con tanti 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 dati e capite bene quanto i dati siano importantissimi e preziosissimi di questi tanti chiuderemo proprio su questa piccola riflessione ovviamente stesso principio io ho allenato la macchina a riconoscere anche dei suoni per farlo che ho fatto sentire un po di di suono di fondo di rumore un po di maracas un po di flauto e un po di tamburello e vediamo se l'ho istruita a dovere adesso vedete c'è un po solo la mia voce quindi avrò una voce un po tamburellesca visto che c'è un po di tamburello però è sto un po il rumore di fondo vedete quando mi taccio esce di fondo allora proviamo di maracas cento per cento maracas ovviamente avete visto quando parlo lo mando un po in confusione oppure tamburello funzione oppure flauto guardate che flauto spettacolare perfetto anche se io potrei sempre fare la prova perché questa macchina l'ho educata con questi strumenti ma potrei usare anche una maracas diversa funziona o la riconosce riconosce anche questa o potrei usare la clessidra come maracas vediamo se la riconosce ancora o potrei usare un po il mio fischiettio come flauto non funziona non funziona perché anche questa macchina ha necessità di essere ulteriormente allenata si sembra tutto estremamente semplice come scrive qualcuno in chat ma non è affatto così semplice e quindi per concludere vi ho accompagnati in questo viaggio nell'intelligenza artificiale fornendovi anche degli strumenti che voi potrete tranquillamente andare un po a cercare divertirvi un po giochicchiare un po ricordando però che qui l'avevo anche registrato nel caso non funzionasse il tutto ricordando che però dietro l'intelligenza artificiale c'è da fare sempre un'attenta riflessione tra le opportunità grandissime che questi strumenti possono dare ma anche i rischi basti pensare appunto alla quantità di dati che va messa in pasto a queste macchine per conoscere un po i comportamenti e la preziosità di questi dati e quindi bisogna avere una certa cura e attenzione nel gestire questi dati e ricordarsi anche che comunque siamo di fronte a di fronte a macchine che non dimenticate mai come il sottoscritto vi ha mostrato prima e quindi ne sono un testimonial sono tremendamente stupide e quindi possono fare anche degli errori davvero grandi 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 bene io vi ringrazio della vostra attenzione spero che questo appuntamento dell'intelligenza artificiale sia stato di vostro gradimento seguiteci sui social su facebook e twitter vi aspettiamo numerosissimi grazie mille a tutti e alla prossima